ma quanto è buono il pesce spada alla pizzaiola dai facciamolo insieme per prima cosa dopo averlo lavato asciugo bene il pesce su entrambi i lati e sui bordi tamponando con carta assorbente poi taglio a pezzetti piuttosto piccoli pomodorini io uso i datterini metto l'olio in padella l'aglio poi una volta dorato metto il pesce spada e lo faccio cuocere un minuto per lato a fiamma molto alta ora sfumo con il vino bianco ed una volta evaporato il vino tolgo il pesce e lo metto in un piatto coperto con la pellicola in modo da farlo mantenere umido ora nel fondo di cottura metto i capperi i datterini tagliati in precedenza il concentrato di pomodoro doppio un pizzico di sale sistemo copro e faccio cuocere per 10 minuti passati 10 minuti rimetto il pesce le olive di gaeta snocciolate e faccio cuocere a fiamma bassa per altri 2-3 minuti poi spengo e metto l'origano eccolo qua guardate che bello e dovreste sentire quanto è buono mamma mia